Favorevole 4.8 Frusone Mi rimetto all'Aula Favorevole 4.51 Rizzo Favorevole 4.2 Duranti, 4.4 Artini, 4.6 Rizzo Favorevole 4.9 Paolo Bernini Contrario Favorevole 4.10 Frusone Favorevole 4.52 Frusone Favorevole Favorevole 4.50 Gianluca Pini Scusate, 5.50 Gianluca Pini Favorevole Mi rimetto all'Aula 6.1 Duranti Favorevole Favorevole 6.50 Gianluca Pini Favorevole Mi rimetto all'Aula 6.2 Duranti Favorevole Favorevole 6.3 Gianluca Pini Contrario 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 7.50 Gianluca Pini Favorevole Mi rimetto all'Aula 8.50 Maglio Di Stefano Favorevole Favorevole Scusi Presidente Scusi Presidente 7.50 C'è il 7.050 C'è il 7.050 Il 7.050 è stato dichiarato inammissibile Ok, grazie Quindi 8.50 Maglio Di Stefano Favorevole Mi scusi Ci rimettiamo all'Aula Scusi Presidente Facciamo un cambio di relatore Interviene la S 8.50 Allora Favorevole Favorevole 9.1 Gianluca Pini Contrario Contrario 9.50 Rizzo Favorevole Favorevole 9.51 Gianluca Pini Favorevole Favorevole 9.52 Del Grosso Contrario Favorevole 9.53 Del Grosso Contrario Contrario